Carissime sorelle e fratelli camperisti, dopo il video brevissimo per come arrivare, perché neofita, cioè che viene con la prima volta col proprio mezzo, come arrivare a Parma o percorre l'Italia per l'intero come facciamo noi da Seracusa, per cui o dalla 1 o dalla 14, ecco dopo il video precedente, questo piccolo video è per rispondere all'altra parte del quesito, cioè dire dov'è il parcheggio Ovest, da dove ci si entra e i servizi troviamo dentro il parcheggio e cosa più importante per alcuni, vi ringrazio, dove venirci a trovare all'interno dell'area parcheggio Ovest delle Fede di Parma in occasione del Salone del Camper che si terrà il mese prossimo, cioè a settembre 2023, dal 9 al 17. Seguitemi. Arrivati alla Fede di Parma, attenzione, mi si chiede dove io vado a parcheggiare, allora io non entro qui, ma percorro tutta questa zona fiancheggiando dietro nella Fiera, va bene, andando qui e entrando dall'ingresso Ovest che è questo, è l'ingresso, attenzione, dove alla sinistra trovate i servizi di carico e scarico per il camper, sembra essere piccolo il parcheggio ragazzi, ma perché non c'è stato, guardate, sono le piazzole immense di carico e scarico, vedete quanto sono piccole le macchine, entrando dall'ingresso Ovest direttamente per chi ha necessità, appena arriva qui, fa carico e scarico, torna da qui e si mette in fiera, prende il ticket e il biglietto e si mette in fiera. Noi saremo parcheggiati, ve lo faccio vedere, intanto noi siamo parcheggiati qui, di fronte all'ingresso Ovest, esattamente, guardate, questo è l'ingresso, noi di nome siamo parcheggiati dal terzo posto qui, dal terzo e secondo posto, questo è dove siamo parcheggiati noi, per cui se qualcuno ci dovesse venire a trovare, l'ingresso Ovest, proprio all'inizio del lato destro, guardandolo frontale, lato destro della palazzina che ospita l'ingresso Ovest. Per il resto potete parcheggiare dove volete voi, di norma questo parcheggio Ovest è quello diciamo preferito, dove trovate, ora mi trovo una foto, dove trovate centinaia, centinaia, se no, migliaia di camper parcheggiati tutti qui. Ecco, penso di essere stato d'aiuto perché mi ha chiesto come arrivare e dove parcheggiare e dove venirci a trovare, per cui se nulla Ovest ragazzi ci si vede in fiera dal 9 al 17 settembre 2023 e ricordate che noi saremo lì sicuramente la sera del 7. Comunque, seguiteci da quando noi parteremo, perché non è che andremo solo in fiera, avremo un mese di tempo per fare un targetto lunghissimo ante e post fiera e di tutto questo targetto e dei post che visiteremo, noi faremo dei video e che pubblicheremo. Seguiteci, iscrivetevi al canale, tanto l'iscrizione è gratuita e comunque lasciate un bel commento perché i commenti sono molto costruttivi e mettete un bel like. Vi saluto, un abbraccio da Doni e Angela, ciao!